I carabinieri del gruppo di Locri hanno arrestato Rocco Barbaro, 52 anni, latitante dal 2015, già proposto per l'inserimento nell'elenco dei 30 ricercati più pericolosi. L'uomo era nell'abitazione di una delle figlie. Barbaro si era sottratto ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa ed intestazione fittizia di beni emessa dalla giudice delle indagini preliminari delle tribunali di Milano su richieste della direzione distrettuale antimafia del capoluogo Lombardo. Già latitante per ben due volte, Barbaro è ritenuto elemento di vertice dell'omonima andrina operante a Pletì ed in Lombardia egemone nel traffico di cocaina. Il ministro dell'interno, Marco Minniti, si è complimentato con il comandante generale dell'arma dei carabinieri Tullio del 7 per l'arresto. La cattura di Barbaro, proposta nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi, ha sottolineato Minniti, è il risultato di un'intensa attività investigativa degli uomini dell'arma dei carabinieri che hanno lavorato con competenze e determinazione a conferma dell'impegno quotidiano sul fronte della lotta alla criminalità organizzata.